Un 29enne di origini magrebine è stato arrestato in pieno centro di Salerno per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane ha sottratto della merce all'interno di un supermercato, eludendo con la forza il tentativo degli addetti di indurlo a pagare. Una volta giunti sul posto, i poliziotti si sono messi sulle tracce del 29enne, inseguito fino alla zona del mercato rionale di Via Piave, dove nonostante il tentativo di non farsi riconoscere, è stato comunque identificato e bloccato. Il ragazzo, ancora convinto di potersi sottrarre all'arresto, ha opposto ulteriore resistenza agli agenti che lo hanno definitivamente bloccato. Nei suoi confronti è stata accertata la responsabilità in relazione ai reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, l'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Contestualmente sono state già avviate nei confronti del 29enne le procedure di espulsione.